Alessandro Del Piero ha deciso rimane per un altro anno a Sydney l'opzione per il rinnovo del suo contratto con il club australiano sarebbe scaduta il 28 febbraio ma l'ex capitano della Juventus ha deciso di continuare la sua avventura umana e professionale all'altro capo del mondo una scelta che fa onora ad Alessandro Del Piero il quale sottolinea motivandola che non si tratta solo e soltanto di una questione calcistica professionale ma anche e soprattutto umana l'Australia ha accolto me e la mia famiglia in maniera straordinaria qui ci troviamo benissimo voglio continuare a giocare con la maglia del Sydney siamo in piena corsa per i playoff intendo togliermi molte soddisfazioni ancora una volta il simbolo uno dei simboli insieme con totti del calcio italiano nel mondo certamente uno tra i più conosciuti a livello universale conferma la sua statura di campione e di uomo è il miglior ambasciatore che il nostro calcio potesse avere agli antipodi dove grazie a Del Piero alla sua professionalità alla sua bravura la sua umiltà ancora una volta il calcio tricolore ha dimostrato tutto il proprio valore e in particolare la grandezza di questo straordinario campione che ha onorato il nostro football e continua a farlo anche in Australia e